Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida di pescare al Lago del Cuore in Fortnite. È una sfida della settimana 10, quindi sarà disponibile da questo giovedì. Il Lago del Cuore è questo, il grande lago che trovate alle Stark Industries. Tutto quello che dovete fare è atterrare qui, o arrivarci in un secondo momento, dove c'è la dimora di Stark qui, e prendere una canna da pesca qui. Ne trovate a quantità industriale. Dopodiché dovete semplicemente pescare, quindi con la canna da pesca vi avvicinate al Lago e pescate per completare la sfida. Molto semplice, può essere fatta in qualsiasi modalità. L'importante è pescare al Lago del Cuore, che ripeto è questo lago che si trova alle Stark Industries.